Ok, vediamo un po' Ok, puh Devo solo fare un intro o un altro? Questo qua della Kifli Ma perché ridi? Questo qua del... non riesco a farlo Ok, bombata, chiudiamola qua Adesso non concludere il video Bellissimo like, Alessandro non ridere Che sento che mi hai fatto ridere? Ciao, ok, basta